Il campo darà il suo verdetto. Trova il compagno, evita la marcatura con un numero, c'è il cross, la colpisce, gol fallerete! Incredibile, il gol scaturisce dal primo tiro in porta della partita. Una serie di passaggi ben calibrati ha permesso loro di segnare. Non so se mi sono detto, ma io sono scoperto a Bada che ha detto, il gol è il primo di World. No, per ragazza ma nada.